Mister Colavitto, questi primi cinque giorni di preparazione qui alla Stade Aragona, come state lavorando in questi primi giorni di preparazione? Stiamo lavorando bene, la mattina stiamo abbinando parte atletica con la palla, il pomeriggio parte con la palla e parte atletica, quindi alla fine il lavoro sta scorrendo agevolmente, tutto positivo. Non aspettiamo di completare l'organico, siamo partiti un po' in ritardo, però alla fine credo che la società si sta sforzando ad allestire un gruppo competitivo per la categoria, poi dipende da noi, dipende da me e dal mio staff a tirare il meglio da questi ragazzi. Forse la cosa difficile sarà unire i giocatori di esperienza a quelli un po' più giovani, cercando di tenere sempre unito il gruppo? No, ma questa difficoltà non ce la vedo, anche perché i ragazzi che sono venuti, Iabboni, Tarquini, Marfisi, sono ragazzi eccezionali, che comunque aiuteranno sicuramente gli altri ad integrarsi al gruppo, quindi questo non ho dubbi e sono fiducioso per quanto riguarda il collettivo. Franco Bolami, presidente della Vastese, da cinque giorni è iniziata la nuova stagione di questa nuova Vastese, come sta vedendo i primi giorni di allenamento della sua squadra? Sono molto ottimista, siamo partiti, come dicevo, in ritardo, però alla fine stiamo mettendo dei tasselli giorno per giorno, ci sono anche novità in settimana, però sono contento e molto fiducioso, vedo un po' di entusiasmo, anche se mi aspettavo così in più, però alla fine non ci puoi lamentare, perché veramente siamo partiti in netto ritardo e con tanti problemi dietro le spalle, però siamo qui perché ci crediamo. Come sta andando la campagna Abbonamenti? Ma insomma, per essere come dieci giorni, non bene e non male, mi aspettavo qualcosa in più perché noi stiamo facendo i salti mortali per fare una squadra ben organizzata, lo so che i tifosi, la gente è ancora ascoltata negli anni precedenti, però ripeto, sono fiducioso, aspetto con calma, facciamo dei due colpetti, e vediamo di portare entusiasmo qua, che è la prima cosa che mi piacerebbe tanto. L'obiettivo è essere, come abbiamo detto, una società sana, società di vastesi e avere una squadra nei prossimi anni di 8-11 vastesi. Ripeto, siamo partiti in ritardo, però noi vogliamo, l'obiettivo nostro è la serietà, ci stiamo mettendo la faccia e dopo, con la squadra che stiamo allestendo, se arriveranno altri di questi due colpi, diciamo anche la nostra.